Ciao a tutti, sono Giovanni Chiodi, presidente della sportiva Giovanni XXIII, società oratoriale, nata nel lontano luglio 1965 di via Pitteri, zona Norti, Calambrate. Lo scorso anno abbiamo partecipato al bando della fondazione Costruiamo il Futuro, abbiamo avuto la fortuna di essere premiati con un assegno da 1000 euro, abbiamo aiutato alcuni ragazzi che avevano delle situazioni di disagio economico, in particolare a situazioni di disagio legate alla zona, il progetto QB ad esempio, ma anche con il Centro per Immigrati Minorenni di Via Corelli.